Amici di VolonWright ben ritrovati, siamo nuovamente qui alla conferenza stampa del 3 dicembre, alle iniziative, agli eventi che la consulta per le persone in difficoltà darà atto nelle prossimi giorni. Abbiamo qui il piacere di avere Roberto Begliardo, presidente dei volontari della consulta, che è stato premiato con il premio 3 dicembre. Roberto, mi puoi spiegare cos'è per te essere volontario? Essere volontario per me è, visto che ho del tempo libero, per cui lo dedico a delle persone che hanno bisogno, per cui attraverso la CPD, che ho avuto la fortuna di conoscere tramite Paolo Ferrero, mi sono dato disponibile due o tre volte alla settimana a aiutare gente che se no non saprebbe come fare per andare agli ospedali, alle cliniche, eccetera, eccetera. Per cui è una cosa che io lo faccio molto volentieri, perché ho del tempo libero, sono in pensione, e finché ce la faccio vado. Va bene, e vuoi per caso darmi due battute sul tema non arrendersi mai? Eh, come ho detto prima, quando ci hanno premiato, non arrendersi mai è una bella parola. Finché le forze ci aiutano e finché c'è la volontà, non tanto fisica ma nervosa, di poter fare certe cose, va bene. Poi purtroppo, come tutte le cose, c'è poi una parola fine. Speriamo più distante possibile, ecco, mettiamola così. Va bene, grazie mille Roberto per la tua disponibilità e buon 3 dicembre. Grazie a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.